Sembrate stata Sephora. Anche dico. Et voilà! La mia stanza preferita. La stanza del piccato. No, vabbè, adoro. Ciao MTV! Welcome! Welcome! Questo è il libro ufficiale di Vabbè. Questo mi è appena arrivato e voglio leggerlo, perché è quello dei segni zodiacali. Voglio dirti qualcosa del tuo segno. Leone, parole chiave, sentimenti. Et voilà! La mia stanza preferita. La stanza del piccato. No, ma più che piccato si dorme. Questa è la mia stanzetta. Praticamente abbiamo deciso io, insieme all'architetto, di rimpicciolire questa camera, che era molto più grande, per realizzare e coronare un mio sogno, ovvero avere la cabina armadio. Perché me ne sta succedendo una più del diavolo. E quindi ho riempito la casa di peperoncini che ti devono essere... Questo viene direttamente dalla Calabria. Donati. Donati. Poi ho l'occhio del malocchio. Che ho mandato alla mamma. Allora, MTV, la casa è in fase di definizione. Come vedi, mancano ancora due sedie, il tappeto. Avevo questa buona gialla, la t-shirt bianca e questa giacca appoggiata sopra. Solo che stavo schiumando. Allora l'ho tolta. No, vabbè, adoro. Adoro. Era la stessa serata della piscina. Ah, amore, ti ricordi? Qui quando siamo andati in Scozia. No. Siamo andati così. Lei ha messo questo e io questo qua. Stavo così. Ancora qui stai, MTV. Ma guarda che proprio, eh. Guarda che sei veramente un'impicciona pettegole, eh. Mamma mia. Che comara. Che dire, amore? Abbiamo visto... Casa mia. Le tue scarpiere. Guarda Roma. Questi libri. Però noi viviamo tra Roma e Milano. Quindi è giusto vedere Milano, ma è giusto anche vedere Roma. Quindi? Che dici, andiamo? MTV, sei pronta? Dai, vieni con noi. Milano-Roma Express. Guido io, guido io. Andiamo a Roma. Ah, ciao MTV. Anche tu qui? Ah, ecco. Alla buon'ora. Che hai preso l'Interregionale per venire da Milano. Ci aspettavamo. MTV, visto che ci hai messo una vita ad arrivare, ci sembrava anche giusto cambiarci e prepararci. Pierpaolo, mi piace questo stile alla Diabolic. Ci siamo spostati da Milano a Roma. Questa è casa di Pierpaolo, ma come vedete io sono ovunque. Eh sì. Qua è un momento a Ibiza. Don't try this at home. Venga, venga. Posso darti del tuo? Sì, vieni. Ecco, questa è la mia camera da letto. Insomma, è molto diversa dalla camera di Giulia. Giulia, diciamo, ha studiato più nei dettagli. Io, insomma, diciamo che è un luogo che uso soltanto per dormire. Vi spiego. Il troll è piccolo. Il blu ti occupa tanto spazio. Almeno ottimizzo, quindi mi sono già creata la base. Quindi trucco, base, make-up, occhi, labbra, fondo, creme, cremine, contorno occhi, struccante, tonico. Sembrate stata Sephora. Anche dico. Divi? Il resto è muro. Grazie a tutti.